Il centro scolastico Kennedy paritario è presente da Avellino tantissimi anni, ma prima era presente come scuola veramente privata, oggi invece è paritaria, da circa sei anni. La differenza bisogna farla. I istituti privati sono quegli istituti che non sono riconosciuti dal Ministero di Puglia e Istruzione e di conseguenza non hanno né i titoli riconosciuti né neanche gli esami in sede. Noi invece siamo un istituto paritario di determinati indirizzi e quindi per i quali noi facciamo esami in sede e rilasciamo anche un titolo di studio riconosciuto uguale a quello della scuola. Quali sono gli indirizzi di studio presenti nel centro scolastico Kennedy di Avellino? L'istituto Kennedy di Avellino ha come istituti paritari l'indirizzo dei licei, quindi liceo classico e liceo scientifico, poi abbiamo due tecnici. L'istituto tecnico ad indirizzo amministrazione finanze e marketing, così la vecchia ragioneria, e l'istituto tecnico ad indirizzo costruzione, ambiente e territorio, che è il vecchio geometra. Per questi indirizzi qui siamo paritari e quindi svolgiamo una funzione con esami in sede, ma per tutti gli altri indirizzi comunque abbiamo la possibilità di fare il recupero anni scolastici presso altre sedi paritarie nostre o di altri indirizzi. L'offerta Cresci con noi è rivolta a tutti i candidati provenienti dalle scuole medie, quindi che hanno i 13 anni, che hanno concluso appena la scuola media, e si iscrivono con noi direttamente dalle prime classi, portando questo discorso avanti per l'intero corso di studio. Ha un'offerta molto conveniente che è solo di 80 euro mensili per 60 rata, quindi per l'intero ciclo di studi. In questo modo il candidato può iniziare con noi dalla terza media e continuare fino alla fine del diploma. Un'altra cosa importante da sottolineare è che noi non ci fermiamo al diploma, ma abbiamo anche l'Università Telematica Pegaso, di cui siamo ICP. L'Università Telematica Pegaso ha 9 corsi di laurea, 200 master, corsi di alta formazione, ed è anche l'ex riconosciuta amministrazione pubblica istruzione con dei decreti ministeriali, quindi rilascia titoli equivalenti a quello dell'Università, in questo caso statale. Grazie.